Pugno duro del sindaco Massimo Cialente, con i morosi del progetto case dei MAP, è stato pubblicato infatti il bando per il recupero crediti degli assegnatari morosi. Sul sito del comune è possibile consultare e scaricare il bando di gara. Ci troviamo costretti, ha dichiarato il primo cittadino Massimo Cialente, a procedere al recupero forzato delle somme, per le quali andremo fino in fondo. La città non può essere infatti ostaggio di 3.300 nuclei familiari normo benestanti, ha detto, andremo pertanto fino alle estreme conseguenze, poiché si tratta di una questione di equità e di civiltà democratica. Ribadisco inoltre le gravi irresponsabilità politiche, dice ancora Cialente, e morali, di coloro che meramente affini politici, come il caso del centrodestra, hanno strumentalizzato i cittadini, facendo trascinare loro un debito crescente da oltre tre anni. L'amministrazione offrirà presto l'ultima possibilità di rateizzazione, commisurata all'ISEE dei nuclei familiari, ma solo per coloro che siano in regola con i pagamenti 2015. I redditi superiori invece a 10.000 euro dovranno pagare tutto entro il mese di febbraio, mentre i redditi ricompresi fra i 7 e gli 8.000 euro avranno otto rate a disposizione per eliminare tutti i pagamenti. Ricordo infine, ha concluso il Sindaco, che dal primo aprile i conteggi dei consumi, sia per l'acqua calda che per il riscaldamento, torneranno ad essere individuali con la sostituzione di tutti i contatori e la telelettura.